R.T.M. News Saluto i telespettatori per questo spazio informativo, Giuliano Marsili per Fatti e Misfatti. Purtroppo dobbiamo tornare sull'argomento del 5G e ci torneremo diverse anche volte perché la situazione sta degenerando. Allora intanto per Fatti e Misfatti, questo che noi abbiamo chiamato delitto perfetto, questa è la terza puntata, abbiamo grazie all'alleanza Stop 5G in Abruzzo presieduta dalla dottoressa Tonia di Giovacchino di Pescara abbiamo avuto anche delle informazioni importanti su come si stanno comportando i comuni abruzzesi, le amministrazioni abruzzesi riguardo al 5G. Allora ricapitoliamo velocemente, mettiamo la Glessidra in funzione così non abusiamo del tempo e allora l'amministrazione regionale, quella vecchia diciamo chiamiamola così, di Luciano D'Alfonso e Giovanni Lolli poi l'amministrazione nuova del professor Marsilio di Fratelli d'Italia senza l'opposizione dei 5 Stelle hanno partorito il delitto perfetto, quindi l'Abruzzo è iniziata la sperimentazione del 5G dall'Aquila, da altre città, Chieti, Pescara e via dicendo. Allora molti sindaci che si sono opposti, intanto vi dico che a livello nazionale più di 500 sindaci si sono opposti alla tecnologia 5G, quindi non è poco, è una bella voce. In Abruzzo il movimento Stop 5G ha scritto una pecca a tutti i sindaci dell'Abruzzo e ha ottenuto dei grandi risultati, perché adesso vedete ci sono dei comuni come Castiglione Messerraimondo che è stato l'ultimo, è l'ultimo comune in provincia di Teramo andando verso Pescara dell'interno che ha fatto l'ordinanza. Poi abbiamo i comuni di San Giovanni Tiatino, Tortoreto è stato il capofila del sindaco Domenico Piccioni, quindi poi Giulianova, Farindola, Alba Adriatica finalmente, anche se era Alba Adriatica c'è una polemica per un'antenna di Iliad, Mosciano Sant'Angelo, Tossicia che prima aveva aderito e poi ci ha ripensato, quindi Castel Castagna all'anno. Poi abbiamo invece dei comuni come Montesilvano che hanno fatto una cosa ancora più profonda, perché hanno variato il piano regolatore, quindi hanno fatto una variante al PRG e infatti i comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo hanno praticamente fatto delle varianti al regolamento sul piano regolatore. Poi abbiamo anche i comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo hanno fatto delle varianti sul regolamento edilizio con esclusione tecnologia 5G e quindi hanno fatto una cosa ancora più approfondita. Poi abbiamo comuni che prima si erano magari, come si dice, resi disponibili a questa sperimentazione come Civita D'Antino, Barete, che poi ci hanno ripensato. Controguerra qui in Val Vibrada, facciamo i complimenti al dottor Franco Carletta che ha fatto l'ordinanza, quindi Montorio Alvomano ha fatto anche l'ordinanza, Cappelle sul Tavo. Chieti addirittura ha approvato un regolamento con il Dinego al 5G e le mozioni sono state approvate dai comuni di Teramo, Martinsicuro e Fresa Grandinara. Introdacqua, che prima aveva fatto la sua disponibilità, hanno approvato invece un regolamento dove non si può sperimentare il 5G. Quindi è un quadro questo dei comuni dell'Abruzzo, va avanti la battaglia del movimento Stop 5G e quindi noi speriamo che si sono sempre più sindaci, noi abbiamo invitato diversi sindaci, i quali hanno paura perché dicono che il decreto semplificazioni, che sta per essere approvato al governo, sia un ostacolo forte, perché dicono che il decreto semplificazioni, l'articolo 38, i comuni non si possono opporre all'installazione di antenne del 5G o di varie tecnologie, delle comunicazioni di questo tipo. Beh, questa è una porcata proprio, quindi è una violazione della Costituzione, questo governo ne sta facendo una al giorno di violazione della Costituzione, speriamo che se ne vada a casa il più presto possibile, perché questo decreto semplificazioni oltretutto non, come si dice, dà la stura a una serie di, come possiamo dire, di ostacoli che c'erano per delle grandi opere, come per esempio centrale a biomassa, termovalorizzatori, discariche e quindi non essendo più prevista il parere della via oppure della VAS o della VIS, chiaramente che sarebbe la valutazione di impatto ambientale o strategico e quindi dà la stura a tutte queste opere. Quindi questa è una grande porcata politica, speriamo che vi devo dire che non venga approvato questo decreto semplificazioni perché sarebbe proprio la rovina. Quindi questo è tutto per oggi su questo delitto perfetto del 5G che all'Abruzzo è stato perpetrato da tutte le amministrazioni ultime arrivate. Poi vi do un annuncio, quindi il 12 settembre a Roma l'Alleanza Stop 5G in Abruzzo ha praticamente organizzato una manifestazione, poi di questa ne parleremo in una prossima puntata, una manifestazione a Roma per dire no per la moratoria al 5G. Bene, grazie per oggi è tutto da RTM News, da Fatti e Misfatti e da Giuliano Marsili per RTM.